L'associazione Asso De Magnali ha presentato la sua nuova referente per Giulianova. La scelta è ricaduta su Giussi Branella, promotrice della famosa spiaggia per cani Unica Beach. La Branella è stata fortemente voluta dal vicepresidente nazionale Morgan Di Concetto per un progetto dedicato al turismo Pet Friendly, volto a creare un'offerta che risponda alle esigenze di questa clientela, rendendo Giulianova una destinazione di riferimento per chi desidera trascorrere le vacanze in compagnia dei propri amici a quattro zampe. Il motivo per il quale mi è stato dato questo onore è perché ho la spiaggia per i cani, quindi siccome Asso De Magnali Italia riunisce circa poco più di 12 regioni a livello nazionale e prende anche in considerazione ovviamente le spiagge per i cani e a livello locale, appunto avendo io la spiaggia che è di interesse nazionale. Morgan Di Concetto che è vicepresidente dell'Associazione Nazionale ha voluto sposare questo progetto anche perché ho in mente di fare un progetto legato al turismo che lavora in rete e quindi si concilia con la loro filosofia appunto di unione tra le varie attività balneari e ovviamente turistiche. Il progetto rappresenta un passo significativo verso l'incremento dell'attrattività turistica di Giulianova con potenziali benefici economici e sociali per la comunità locale, soprattutto visto che il turismo fatto con gli animali domestici è un settore in grande crescita. È in fortissima espansione e le esigenze delle persone sono sempre maggiori, ecco perché ho pensato che sia il caso proprio di offrire dei servizi, un'unione di servizi che vada a soddisfare le esigenze di chi va in vacanza col cane che ovviamente non si limita solo ad andare al mare e basta, ovviamente come per i bambini, come per i ragazzi che hanno più necessità, anche per chi va in vacanza col cane ovviamente si cominciano a profilare queste maggiori esigenze. Grazie.